L'ispirazione nasce sostanzialmente da un'emozione forte quindi può essere un colore, può essere un profumo, può essere una situazione particolare un avvenimento anche nella vita tutto si può tradurre poi in un'espressione estetica Ritengo che oggi non ci sono più limiti a livello stilistico quindi tutto è diventato molto fluido, molto contaminato è impossibile secondo me definire uno stile preciso guardando un oggetto piuttosto che un ambiente, piuttosto che un vestito se vogliamo in tutti gli ambiti gli stili sono completamente distrutturati secondo me e questo è un po' il bello dell'era che stiamo vivendo che è l'era delle contaminazioni e quindi c'è una totale libertà espressiva da parte del progettista nei confronti insomma dei prodotti We Don't Design nasce in origine come una campagna marketing nel senso quando lo studio non esisteva ancora abbiamo fatto queste cartoline da inviare alle aziende e sulla parte frontale della cartolina c'era scritto proprio We Don't Design, We Just, tre puntini proprio come forma di provocazione dopo ci siamo accorti che era uno slogan che poi è diventato un logo vaido e quindi ho ottenuto appunto questo slogan qui come identità aziendale Grazie a tutti Grazie a tutti